Ciao a tutti, vi do il benvenuto a Corner, l'angolo di manifestazione Climamica, che consiste in buone pratiche messe in pratica dal Film Festival per diminuire il proprio impatto climatico. Sono Riccardo della cooperativa Quater, Corner è uno spazio dove è possibile fare una dichiarazione, rilasciare una testimonianza su quello che si è letto, legato appunto alla montagna, al discorso ambiente, di un film che si è visto, di un qualcosa che interessa particolarmente, una passione nobile legata all'escursionismo, alla montagna. Allora, direi che non c'è molto da fare, c'è tanto da fare, e il mio contributo personale a questa iniziativa è un'altra bicicletta. È così bello, comodo, evita il traffico, io lo faccio fortunatamente perché lavoro vicino a casa, ma non solo quando lavoro, e direi che è un buon punto di partenza. La mia soluzione ai problemi ambientali e del clima sarebbe in poche parole questa, dobbiamo ormai cambiare la nostra coscienza ambientale, rinunciando a molte delle comodità che man mano si presentano, e insegnare questo alle prossime generazioni. Mi tanto l'ho riferenziata, che già siamo un buon punto, il Trentino è già superiore al 50%. Però tutto ciò lo dovrebbero fare partecipare per tutti, perché così si arriverebbero ad arrivare a salvare questo pianeta che si sta distruggendo. Ammir la montagna nel suo totale, nel suo totale vuol dire dal fiore alle cime. Giudico ottima questa iniziativa nell'ambito del contesto del D30, a sensibilizzare l'opinione pubblica, a inquinare meno fondamentalmente. Anch'io voglio piccolo, cercherò nel possibile di forzarli a inquinare, a mettere sempre meno lì nella proposta, a creare meno inquinamento possibile. Quindi vi aspetto a Corner, l'angolo del clima. Noi siamo al campo base, presso appunto dove c'è il centro Santa Chiara, orario tendenzialmente dall'ora di pranzo fino all'ora di cena. Vi aspettiamo, grazie e ciao!